Musica Francesco Di Palma candidato nella lista Forza Versa a sostegno del candidato sindaco Gianluca Golia la campagna elettorale giunge quasi al termine, come si è svolta e quali sono le richieste che ha ricevuto dai cittadini? Ormai siamo gli sgoccioli, sono gli ultimi giorni di campagna elettorale è stata una bella campagna elettorale intensa, anche se breve le esigenze dei cittadini e della città sono tantissime infatti ogni giorno, perché poi io svolgo una campagna elettorale porta a porta mi piace avere il contatto diretto con le persone cerco di recepire tutte le stanze e cercheremo, sia in caso di vittoria ma anche in caso di sconfitta del nostro sindaco comunque di porre all'attenzione dell'amministrazione tutti i problemi della città un tema sul quale mi soffermerò in particolar modo sarà quello dei parcheggi io già come presidente della commissione urbanistica nella scorsa amministrazione ho portato avanti un progetto ossia lo spostamento del mercato ottofrutticolo e precisamente la delocalizzazione nelle periferie se riusciremo a portare avanti questo progetto daremo respiro alla nostra città che è intasata dalla mattina per il traffico soprattutto in quella zona che c'è il tribunale lì sarà fatto un grande parcheggio a servizio della città con delle navette ovviamente che porteranno poi le persone che arrivano in città o verso il tribunale o il centro o dovunque vorranno andare ovviamente è un progetto molto ambizioso ma nel quale io ci credo e ho iniziato già durante la mia scorsa esperienza amministrativa a portarlo avanti un'altra tematica molto importante è quella che riguarda le scuole qui ad Aversa ci sono delle criticità come i doppi turni come intende intervenire? Sì, molto spesso in questi giorni mi sono confrontato con mamme e io ho anche un figlio piccolino che frequenta la scuola pubblica questo è un aspetto molto delicato perché oggi come sappiamo fortunatamente molti genitori lavorano entrambi perché bisogna lavorare entrambi per portare avanti la famiglia e quindi i doppi turni creano un disagio notevole io mi impegnerò in prima persona e ovviamente chiederò l'aiuto al mio sindaco in caso di vittoria per cercare di portare a termine i lavori che anche molte scuole già sono iniziati ma bisogna comunque completare per evitare qualsiasi disagio per i cittadini che giustamente vogliono che i figli frequentino le scuole con meno disagi possibili Quindi i cittadini di Aversa perché dovrebbero votare lei al Consiglio Comunale? Chiedo il sostegno di tutti i cittadini aversani perché innanzitutto mi ritengo una persona per bene io non faccio la politica per lavoro, io sono un avvocato e la mia è solo una passione posso dire ma penso che qualcuno già lo sa io sono al servizio dei cittadini H24 senza nessun secondo fine Grazie Grazie